Allora siccome si vergognano tutti parlo io e vi dico che sto osservando, osservo queste quattro galline che si girano e guardano. Va bene che la moda dei risvoltini è diventata una vera moda però ci sono veramente situazioni inguardabili, imbarazzanti vero? Risvoltini fino a metà polpaccio con gambette di un secco e mocassini di una tristezza infinita. No io non ho nulla da dichiarare. Lari tu che hai organizzato la serata? Non ho organizzato la serata. Parlo male dei ragazzi mal vestiti e delle ragazze con troppo esposto. Allora un saluto a tutti da La Pettegola.